Buona serata a tutti e rieccoci qua per la trasmissione Magia e Stragoneria Paganesimo a seconda parte nella quale trattiamo il Libro d'Anticristo. Io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo via delle Vignole 4, Marghera, Venezia. Prima di cominciare la trasmissione vi ricordo che sabato 7 febbraio alle ore 18.30, ripeto sabato 7 febbraio alle ore 18.30 al Palazzo Oniedo a Treviso in Corso del Popolo XXIX. Si è tenuta una conferenza sul tema Magia e Stragoneria Paganesimo come liberazione dal cristianesimo. La conferenza ricalcherà esattamente più o meno le stesse cose dette alla conferenza di Vicenza, esponendo i principi generali su cui si basa la stragoneria e il paganesimo. La presentazione sarà di circa 50 minuti, circa, poco o meno di un'ora. Dopodiché seguirà il dibattito e sarà anche un momento di incontro, un momento per scontrarci, un momento per mettere insieme anche altre idee, insomma confronti e anche un momento di incontro fra tutti i pagani, tutti gli apprendizi stragoni, tutti quelli che hanno dentro di loro qualcosa da costruire e da ricercare. Nella trasmissione di questa sera dalle 19 alle 20 parleremo del Libro dell'Anticristo e parliamo della quinta parte del Libro dell'Anticristo. Nella prima parte abbiamo trattato il Vangelo dell'Anticristo con l'universo, l'essere, l'entità e la natura. Nella seconda parte abbiamo tracciato la via umana al divenire eterni, quello del progetto dell'Anticristo, che cos'è la verità, il potere di essere, il potere di avere, il leo psichista, il sognare, il guardiano. Nella terza parte abbiamo affrontato il tema la fondazione della libertà, che cos'è la conoscenza, la dialettica divenire, il tentativo e definire la teoria della dipendenza, l'attenzione. Nella quarta parte abbiamo trattato l'Anticristo e il mondo circostante, l'energia vitale in materia, cioè come punto di vista dell'Anticristo del mondo circostante, cioè la variazione, l'uscita da quello che è la forma, la ragione, la numerazione, la descrizione. Abbiamo detto che il mondo in pratica è energia, il mondo è una relazione fra campi di energia, abbiamo visto come questi si mescolano e come questi siano campi di coscienza. Abbiamo fatto discorso su alcuni aspetti della percezione, il sole e i pianeti come esseri viventi, nascita e conoscenza di essere slegati alla vita animale e vegetale, in pratica di essere di energia. Abbiamo parlato di energia vitale in materia. Adesso invece andremo a fare un discorso filosofico molto più semplice, molto più semplice e nello stesso tempo molto più rognoso sotto certi aspetti. In pratica parleremo della menzogna cristiana sulla realtà di Dio, cioè in pratica il Dio detto dai cristiani, il Dio creatore, il Dio che costruisce l'universo non esiste. Non esiste, è una menzogna davanti a quale metto i ginocchi gli esseri umani. Per fare questo mi sono servito di 20 punti presi dalla critica della ragione pura di Kant. Vi accenno solo al primo, ma non ve li leggo tutti i eventi. Il primo punto dice Kant, si è in ogni tempo parlato dell'essere assolutamente necessario e non si è pensato tanto da darsi la pena di intendere. Se e come si possa anche solamente pensare una cosa di questa specie, quanto piuttosto dimostrarne l'esistenza. Ora di certo è molto più facile una definizione verbale di questo concetto. Chi, cioè, esso sia qualche cosa il cui non essere è impossibile. Ma non questo, non se ne sa niente di più circa le condizioni che rendono impossibile considerare come assolutamente impensabile il non essere di una cosa e che sono precisamente quel che si vuole sapere, ossia se questo concetto possiamo... ossia se questo concetto pensiamo qualche cosa o no. In pratica non si può pensare l'essere assolutamente necessario. Non si può pensare il creatore, cioè il Dio creatore in quanto non esiste. Però a Kant questo non interessa, lui interessa mettere l'accento sul fatto che non si può pensare all'esistenza di un Dio creatore. Cioè per lui come cristiano non riesce a vedere come si possa pensare a un Dio creatore. È una cosa assurda, impossibile. Bene. 20 punti tratti della critica della ragione pura li commentiamo nell'ultima parte del libro dell'Anticristo che è intitolata La mezzogna cristiana sulla realtà di Dio. Siccome questo trattato è breve, però bisogna farlo almeno in due trasmissioni, vi salterò i punti citati di Kant per partire immediatamente con la critica a Kant. La premessa di questo pezzo dice questo. Anche se sarebbe bene trascrivere tutto il resto, mi permetto di estrarre una serie di brani della critica alla ragione pura di Kant attraverso i quali egli affronta le prove del concetto dell'esistenza di Dio posto dalla filosofia al servizio del comando sociale. La teologia spiccia della repressione, usava il terrore biblico, ma per i filosofi era molto diverso. I discorsi dovevano essere molto più raffinati ed elastici. Quando Kant scrive La critica alla ragione pura, il cristianesimo si trova a dover fronteggiare l'illuminismo avanzante. Due anni dopo la seconda edizione della critica alla ragione pura scoprirà la rivoluzione francese. Il terrore biblico perde consistenza e il cristianesimo più o meno inconsciamente cerca nuove prove dell'esistenza del suo Dio o di un Dio qualsiasi per riprendere il controllo sul sistema sociale. La critica kantiana, a mio avviso, rappresenta il punto più alto di resistenza del cristianesimo dove la sublimazione giunge a dimostrare la non esistenza delle prove ma contemporaneamente la non esistenza di non prove assolvendo così il Dio di fronte al tribunale della storia. Egli stesso, dopo aver demolito le prove dell'esistenza di Dio, salva la fede in Dio trovando la sua ragione di essere nell'impossibilità di dimostrare attraverso il condizionamento della ragione la non esistenza di Dio. Da ricordare, è importantissimo questo da ricordare, il termine dialettica usato da Kant è diverso da come lo uso io. Per lui dialettica è usato all'aristotelica, cioè è articolazione del parlato. Per me invece il termine dialettica rappresenta l'interazione numenica, cioè l'interazione degli oggetti, cioè il riversarsi dell'uno nell'altro e l'altro nell'uno di due oggetti o fenomeni venuti a relazionarsi. È importante perché io uso il termine dialettica alla marxiana, non all'aristotelica. E sono due modi di usare il termine dialettica molto diversi. Questa è la premessa. La critica è questa. Io vi faccio un po' di pagine di lettura, dopodiché mi fermerò a 10 minuti circa alle 8 e accetterò le telefonate se qualcuno vuole telefonare e comunque farò altri discorsi e finirò la lettura la prossima volta. Dopodiché vi presenterò un altro libro, non so esattamente quale, ma penso o il sentiero d'oro o ciò che porta a diventare età nella religione romana. Vi risparmierò per il momento Gesù di Nazareth all'infamia umana. Oppure passerò direttamente all'NDE, il libro sulle esperienze di premorte. Vedremo comunque, ci penserò poi. Ricordo che tutti questi libri fanno parte del bagaglio attraverso il quale stiamo lavorando per costruire il pensiero pagano. vi riporto che nel paganesimo non c'è né la filosofia né la teologia, cioè tutto è andato completamente distrutto. La ricostruzione di questo avverrà nel giro di parecchi decenni, cioè ci vorranno almeno 150 anni per ricostruire tutta la filosofia e con tutte le variabili che nel frattempo cresceranno. Io spero che il mio sia solo un piccolo contributo, almeno spero di riuscire a dare un contributo, però può darsi che altri riusciranno a fare molto meglio di me e questo lo spero. Questa è la critica kantiana o parte di essa all'apparato con cui la religione cristiana si apprestava ad affrontare l'avanzata dell'illuminismo in Europa. Questa critica e quello che seguì poi con l'avvento del materialismo tesero a ridicolizzare, dimostrando l'inconsistenza delle dimostrazioni fino ad allora utilizzate nelle disquisizioni filosofiche sull'esistenza dell'essere creatore, al di là dell'apparato terroristico o rivelato della Bibbia. Mentre il materialismo dialettico di Libertini prima, dei comunisti e degli anarchici poi facevano della critica armi con le quali attaccare il potere della Chiesa e la sua azione nel traffico di schiavi, all'interno del sistema sociale, la critica kantiana è una critica funzionale al sistema clericale, in quanto la sua critica ha lo scopo di smontare le prove, tenendo un lettore fermo nella condizione soggettiva della sua adesione all'idea del creatore supremo. Dice Kant, che te ne frega delle prove? È tutto soggettivo e indimostrabile. Il creatore è il bisogno della tua ragione, dunque continua a credere senza cercare prove. Naturalmente le cose possono essere lette in maniera diversa e il libertinismo, la rivoluzione francese, il liberalismo, il materialismo storico dialettico, la teoria dell'evoluzione, la capacità di alterare le capacità psichistiche nella percezione di fenomeni, l'alterazione delle prestazioni fisiche mediante l'allenamento, le scoperte di Pavlov sui riflessi condizionati, i lavori di Freud, Reich, Jung, eccetera, indicano cose ben diverse e nessuna di esse aiutano nella dimostrazione dell'essere creatore. Si può obiettare che sia facile, al giorno d'oggi, opporsi alle prove filosofiche dell'esistenza dell'essere creatore, con tutti gli elementi raccolti dalla scienza e da metodi di lavoro sconosciuti fino a un paio di centinaia d'anni fa. Certo, sembra facile bastonare il can che annega, ma ricordate quando il costore bastonava nel cane che faticosamente si trascinava verso la riva della conoscenza? Ricordate i roghi inalzati a sberlefo della libertà di pensiero? Ricordate le teorizzazioni nell'uso della tortura a chi non aderiva ciecamente al loro piacere di terrore? Perché aver pietà del cane che annega quando la via attraverso la quale giunse nel fiume è cosparsa di lacrime e sangue di interi popoli? Quando gli adoratori di dei creatori sono impotenti? O non stanno forse già tramando per armare nuovi eserciti, attraverso i quali rispargere sangue e terrore per riprendere il dominio e il commercio di schiavi? Che forse la loro morale, i loro principi, le loro leggi non sono sempre le stesse ispirate, gli stessi principi biblici? Forse che rinunciarono a piegare le ginocchia davanti a un dio assassino? E non è forse quell'assassino a cui si riferiscono quando si identificano? Concordia e libertà di culto? Dicono quando sono deboli. Inginocchiatevi e obbedite alla nostra morale? Dicono quando sono forti. Se per le genti è sempre più comprensibile l'aberrazione del dio biblico, molto pragmatico nelle azioni e nei bisogni, più sfuggente e sottile è il dio dei filosofi. A nulla serve ridurre all'impotenza il dio biblico se non si strappa il dente vilenoso dalla bocca del dio dei filosofi. Senza Socrate ed Aristotele è il cristianesimo un'aberrazione vuota, è il prodotto di un folle che spacciatosi per figlio di un dio comprese la propria aberrazione all'ultimo momento, quando era appeso ad una croce, una pazzia giunta a proposito da utilizzare nella gestione del putridume di un impero morente. Vi ricordo che questa roba è stata scritta oltre dieci anni fa. Nell'evoluzione delle idee e delle cose il dopo si sovrappone al prima. Ogni scoperta aggiunge un qualche cosa a ciò che già si sapeva. Quando un nuovo giunge a smentire e a smascherare per falso il vecchio, allora ciò che era, era solo falsità. Tutto ciò che è nuovo, nella misura in cui è contraposizione alle affermazioni filosofiche precedenti, altro non fa che dimostrare la disonestà e l'inconsistenza delle opinioni precedenti. Se le deduzioni filosofiche precedenti al nuovo fossero state oneste e coerenti con l'oggettività del circostante, il nuovo non vi si contraporrebbe, ma costituirebbe momento di ampliamento del vecchio, un nuovo sviluppo, nuove strade, nuovi orizzonti. Vi ricordate Democrito la teoria e la teoria atomistica, bene, fu sberleffata e presa in giro per tutto il medioevo dei cristiani. Oggi come oggi è una delle genialità della Grecia antica. Nelle evoluzioni delle idee e delle cose, ma veniamo a Kant, una cosa va premessa della sua critica alla ragione pura, è onesto, nei limiti in cui un cristiano può essere ritenuto onesto. Non gioca con gli specchi, né si illude. Prende il materiale offerto lì dal suo mondo e lo elabora attraverso i propri sensi, cerca di capire. Dopo di lui il mondo prosegue in una diversa direzione e, per quella direzione, anche egli vi getta il suo seme. Perché nasce l'idea dell'essere assolutamente necessario? Questa è la domanda con la quale Kant apre le sue riflessioni. Perché un essere come l'uomo giunge ad elaborare un'idea del genere? Quest'idea è un'idea di ripiego, non è un'idea trascendentale, come afferma Kant, ma è un'idea formulata dagli stoici sotto l'incalzale della critica dei scetici. Nessuno, e la ricerca antropologica lo può confermare, contesta l'origine naturale di ogni forma religiosa. È il rapporto uomo, attraverso i suoi sensi e natura, a trasformarsi in religione. Perché questo? Nessun animale ha mai sviluppato un rapporto religioso fra sé e la natura. Egli è la natura e la natura è lui. C'è interdipendenza, non c'è assoggettamento. Il gioco degli adoratori di essere assolutamente necessari o assolutamente necessario si sviluppa dopo l'apparire dell'essere umano all'interno della natura e la stessa teoria dell'evoluzione ebbe sempre difficoltà a spiegare logicamente perché l'essere umano, pur vivendo decine di milioni di anni nella natura, è tanto estraneo ad essa. Nel corso della sua evoluzione l'essere umano operò il distacco della natura sviluppando la corteccia cerebrale, trasferendovi progressivamente tutta una serie di funzioni proprie del cervello interno. In natura tutti gli animali dispongono dei cinque sensi, più o meno accentuati o specializzati a seconda della specie. Anche il numero può variare a seconda della specie e della sua specifica evoluzione. Solo l'essere umano e alcuni esseri scimmia embrionalmente evoluti utilizzano la corteccia cerebrale per l'elaborazione dei fenomeni percepiti attraverso i sensi. Oltre a questo, l'essere umano sviluppò nel tempo e perfeccionò alcuni organi cerebrali, fra cui il corpo striato, avente la funzione di isolare la parte interna dalla parte esterna del cervello. Questo processo, comunque evolutivo, in quanto funzionale allo sviluppo della specie, presentò un'involuzione nei rapporti fra l'essere umano e natura, dove l'estetica della specie soppiantò la numenia, la forma soppiantò l'essenza. Questo processo si sviluppò nell'arco di alcune decine di migliaia di anni ed ebbe fasi diverse di sviluppo nel processo di distacco dalla natura. Dove stia in vantaggio per la specie umana l'avere imboccato tale via evolutiva, non è interesse di questo paragrafo cercarlo. Prendiamo come dato il fatto che ciò avvenne. Ad ogni generazione quel distacco si accentuava e i messaggi provenienti dalla parte interna del cervello erano sempre più incomprensibili. Si può dire che l'essere umano perse il proprio paradiso per essere cacciato nell'impotenza del rapportarsi con la natura, la quale, da madre generatrice, divenne nemica caotica e feroce tanto da doverla domare trasformandola. Ciò sembra un po' eccessivo. Quando mi guardo attorno vedo solo degli esseri umani definibili come feroci. Di tutto il resto sospendo il giudizio e ne ricerco la causa. Cosa affiora nel cervello bloccato dell'essere umano? La sensazione della vita all'interno del pianeta. La sensazione della vita all'interno dell'essere sole. La sensazione della vita all'interno dell'essere luna e degli esseri pianeti. La sensazione di essere circondati da essere coscienti di sé. La natura, il sole, la luna, i pianeti, la terra. L'essere umano stacca la spina della sintonia con la natura ma non è un paria di questa. I poteri della natura lo sostengono anche nel mondo della ragione che li va formulando a poco a poco. L'essere umano non percepisce la consapevolezza di sé di un essere scarabeo ma non può fare a meno di ammirare il suo fare il cui risultato rende fertile la terra favorendo la continuità della specie. Questa stessa terra e questa stessa fertilità atta a produrre il suo cibo. Da quest'ottica possiamo ammirare qualsiasi essere esistente e le sue abilità nel risolvere i suoi problemi legati alla propria esistenza. Eppure secondo alcuni essi non disporrebbero di intelligenza però risolvono i loro problemi e l'essere umano nota il proprio vantaggio all'interno della soluzione di tali problemi. Alcuni di questi esseri sono o tanto grandi e potenti con i quali non è in grado di rapportarsi direttamente o tanto lontani fisicamente. Altri sembrano così indifesi da sembrare protetti da qualche cosa di misterioso. Esseri come il sole e la terra sembrano accogliere all'essere umano dandogli benessere e sostentamento. Essi per l'essere umano divennero padre e madre come trasposizione del suo divenire. L'essere umano se da un lato trasferendo l'elaborazione dei messaggi provenienti dai sensi terminati sulla corteccia cerebrale e rafforzando la barriera del corpo striato si allontanava dalla percezione neumenica del circostante perciò che dall'altro attraverso la ragione cercava di capire il mondo circostante e i suoi meccanismi attraverso l'analisi della forma estetica e trasponeva i meccanismi compresi dal quotidiano al microcosmo e al macrocosmo. Il rapporto con la natura diventava paura e sudditanza nei confronti dei fenomeni, impotenza nell'affrontarli, e quelle paure divennero dei dominatori dopo che l'essere umano divenne Dio, dominatore di esseri animali, disarmati prima e di altri esseri umani poi. Egli traspose tutto questo. Tutto questo gli venne ritorto contro da altri esseri esistenti nella natura, composti di solo energia vitale, nei confronti dei quali l'essere umano divenne cieco da quando sviluppò la corteccia cerebrale. Pur percependono i messaggi provenienti attraverso la parte interna del cervello che qualche volta passano attraverso il corpo striato, l'essere umano non era in grado di verificarne la forza e la consistenza. Questo non è dimostrabile, come è dimostrabile la presenza di un tavolo. Non posso andare per strada a dire al primo individuo che incontro, ecco questo è l'essere di solo energia vitale, come minimo mi prenderebbero per matto, come dovrebbe essere per chi gira a parlare di un essere assolutamente necessario o di un Dio creatore. Posso dimostrarlo solo a chi riesce a sfondare, sia pur parzialmente, la barriera del corpo striato. Posso inoltre cercare la tradizione di presenze spiritiche, follettistiche, in ogni tradizione popolare o ogni religione dell'intero pianeta. Però esistono delle condizioni, sia pur parziali, per cui posso dire, questo è un essere di solo energia vitale. Mentre non esiste nessuna condizione, a proposito lo dicono anche i cristiani quando vedono la Madonna, mentre non esiste nessuna condizione per cui qualcuno possa dire, questo è Dio creatore o l'essere assolutamente necessario. Non è possibile, anche se è difficile dimostrare ad un cieco una forma che non può comprendere nelle proprie mani. L'essere umano tra l'altro traspose tutto questo, sentendosi in balia di forze non controllabili e da meccanismi sconosciuti. Ma se il padrone conosceva più cose del servo, certamente un altro padrone, a lui inaccessibile, conosceva, sapeva, faceva. Doveva dunque ingraziarsi di tali forze, le quali come lui pensavano, come lui mangiavano, come lui facevano all'amore, come lui generavano. Prima fu al sole, alla terra, alla luna e alle stelle, ai fenomeni della natura, che l'essere umano chiese benevolenza. Perfezionandosi la struttura del comando sociale e dovendo questa estragnarsi dal sistema sociale da dominare, anche gli esseri della natura prima appresero forma umana, poi da molti divennero uno. Per modo di dire, visti tanti semi-dei di cui si circonda il Dio dei cattolici, per diventare infine impersonabile, imprescrutabile, essere incondizionato, assolutamente necessario. Una costruzione per sovrapposizione dell'ignoto, quale garante del comando sociale, divenne idea trascendentale a priori. Si dimenticano i passaggi, le trasposizioni, l'idea dell'essere incondizionato necessario passa di bocca in bocca, di generazione in generazione. Le sue dimensioni crescono, gli aggettivi riferiti sono sempre assoluti. Tutti devono inchinarsi a tanta magnificenza, tutti devono inchinarsi davanti al comando sociale, da esso legittimato. Il nome dell'essere assolutamente necessario dell'esercito vincitore viene esaltato, nella polva in nome dell'essere assolutamente necessario dell'essere sconfitto. Chi portò l'esercito alla vittoria e il proprio essere assolutamente necessario, lo date, lo date, lo date, ma che cosa? Il controllo del comando sociale sul sistema sociale degli esseri umani. Staccato dalla società degli uomini diventa pensiero puro e si discute sul pensiero puro stesso. Donde del rivolto al pensiero? Dalla religiosità innata dell'essere umano, risponde il comando sociale. No, dall'incapacità di padroneggiare il proprio divenire, risponde la natura. Folli bestemmiatori, Dio vi punirà, ma leggi, galere, tortura e roghi, Dio non ha la forza di innalzarli. La forza c'era solo chi fa degli esseri umani carne da lavoro. Dove sono i predicatori di forze di onnipotenza del vostro essere assolutamente necessario? Egli è onnipotente, egli è onnisciente, ma quale miserevole fine costui farebbe se non fosse sostenuto da eserciti, leggi e costrizioni? Come può essere pensato o descritto quest'essere? Se lo penso come realtà suprema, non so se esista. Non posso conoscerlo a posteriori, non rientra nell'ambito dei sensi, nel quotidiano della ragione. Pertanto non è possibile scambiare il concetto dell'essere assolutamente necessario con l'essere supremo. Dunque posso pensarlo solo come categoria pura. Nessuna meraviglia che non posso fornire nessun carattere per distinguerla dalla semplice possibilità, dice Kant. E qui spiazza tutti. Vi ho fregato, dice Kant. Vi ho tolto l'essere supremo dai sensi, l'unica cosa da voi posseduta per percepire i fenomeni degli oggetti. Ma dal momento in cui vi sottrago l'essere assolutamente necessario e l'infilo nelle idee pure, voi potete solo pensarlo, ma non misurarlo né criticarlo. Ma se l'essere assolutamente necessario è solo un'idea pura, questa è la riprova della sua non esistenza. Come Babbo Natale, ciò che viene confinato nelle pure idee sono le ipotesi di risposta a domande quando vi è meno il carattere scettico della non conoscenza. Oggi posso parlare di comportamenti derivati dalla coercizione di bisogni sessuali, grazie a Freud, Reich e compagni. Kant non era in grado di far ciò. Per lui quei comportamenti, come del resto tutta la psicologia, altri non erano che movimenti dell'anima. Comportamenti ed idee, oggi empiriche, sia pur nella diversa articolazione delle impressioni, per Kant entravano nel trascendente e nelle idee pure. Il meccanismo deve essere letto al contrario. Idee empiriche vengono trasformate in idee pure attraverso l'oblio dell'empiricità della percezione nella formulazione delle idee stesse. La necessità pragmatica nell'affrontare il quotidiano tende a mettere da parte lo scetticismo del giudizio rispetto a determinate soluzioni di problemi pensati, descritti, per sostituirlo col giudizio di necessità. Il giudizio di necessità, tramandato di generazione in generazione dal comando sociale, diventa l'unico giudizio relegando nell'oblio sia la soluzione che il problema descritto. Il giudizio di necessità si trasforma attraverso il condizionamento educazionale diventando soluzione e risposta alla quale il sistema sociale deve inchinarsi. Se una cosa esiste, esiste anche l'essere assolutamente necessario. Questo è un accostamento arbitrario e, risponde Kant, la minore contiene un'esperienza alla maggiore un'illazione, da un'esperienza in generale all'esistenza del necessario. Ma è molto di più, è un'operazione scorretta e disonesta. Assolutamente necessaria è la cosa, non l'essere. È l'esistere della cosa a rendere questa necessaria a sé, non il suo riflesso nell'essere. Gli adoratori di Dei mettono se stessi al centro dell'attenzione dell'universo e sopra di essi il loro Dio, dal quale traggono avvallo per le loro proposizioni. Ignorano, o vogliono ignorare, gli oggetti, il comportarsi con i quali determina il loro esistere. Non solo, ma negano l'esistenza in sé di quegli oggetti, dei quali non sono in grado di percepire la struttura per farli esistere in funzione dei propri bisogni. È il sofismo, afferma Kant. Quando un concetto vuoto viene circondato da centinaia di aggettivi assoluti attraverso i quali innalzare una cortina fumogena con cui occultare la vuotezza e l'inconsistenza di un concetto è sofista. La forza del concetto, in questo caso, sta nella suggestione autoipnotica indotta attraverso la ripetizione a critica degli aggettivi. Il condizionamento educazionale passa attraverso la criticità delle condizioni subite dai soggetti subalterni al comando sociale. Attraverso il fumo degli aggettivi il nulla prende forma gigantesca e terrifica, diventando l'essere assolutamente necessario agente primo dell'alimentazione di paure e impotenze. D'altro canto la questione dell'essere supremo si taglia la testa alla soluzione di ogni problema e di ogni questione. Non potendo dire l'essere assolutamente necessario è questo qui, ogni volta in cui una questione rimane sospesa appare la soluzione nella volontà di Dio, disarmando così ogni volontà di ricerca. Quando il sole era il Dio, gli esseri umani, ammirando il piacere derivante del suo calore, a lui attribuivano ogni interferenza nella natura, dalla quale traevano soddisfazioni nell'appagamento dei propri bisogni. Essi potevano dire l'essere assolutamente necessario è questo e indicarlo. E non sbagliavano. Il riferimento da essi assunto erano i loro bisogni che attraverso l'azione di quell'essere venivano soddisfatti. Quell'essere non interferiva nelle azioni umane, se non indirettamente, attraverso la natura, attraverso il proprio esistere. Cominciò ad interferire quando qualcuno proclamandosi figlio suo, o da egli inviato o ispirato, lo assunse a testimone del proprio diritto di autoproclamarsi comando sociale, padrone di altri esseri umani. Oggi il sole è considerato la stregua di una palla di fuoco. E l'essere umano, una macchina da lavoro, dimentichi dell'esistenza di sé, dell'esistente. Perché dunque non allontanare l'essere assolutamente necessario nel buio dell'infinito della ragione pura, lontano dalla percezione dei sensi? Se non possiamo dimostrare la sua esistenza, non possiamo dimostrare nemmeno la sua non esistenza. Il dubbio del condizionamento educazionale resta inalterato. Non avendo elementi per non credere, tanto vale credere. Che ti costa, dice il comando sociale, a chi vuole sottrarsi al gioco dell'adesione, ad una concettualità il cui scopo è quello di impedire agli esseri umani di afferrare nelle proprie mani il destino della propria vita, anziché abbandonarsi all'illusione dell'essere assolutamente necessario, di cui sarebbe espressione il comando sociale dal quale fa derivare la propria autorità ed onniscienza. E ancora, chi ha bisogno dell'essere assolutamente necessario? Chi se non la mente il cui bisogno è quello di impedire ad altrimenti di scalzarla dal proprio trono di comando sociale? Chi se non coloro i quali nel nome della pace, anziché esautorare la necessità della guerra per rapina, invocano la pace dei sensi, nella percezione del bisogno di piacere e della conoscenza al solo fine di impedire il distacco degli individui dall'adesione al comando sociale e la perseveranza di costoro nel loro ruolo di carne dal lavoro? Abbiamo bisogno noi? Ma noi chi? Noi padroni di esercito attraverso i quali ci appropriamo del lavoro di altre mani? O noi esseri umani dal salto del cielo della conoscenza e della consapevolezza? Noi, pregando l'essere assolutamente necessario affinché soccorra i nostri bisogni insoddisfatti? O noi dalle mani sporche di fango e grasso per soddisfare i nostri bisogni? Quale noi ha bisogno dell'essere assolutamente necessario? Perché risalendo le condizioni dell'esistere debbo necessariamente ammettere un essere assolutamente necessario? Ciò parte dal presupposto per cui la mia mente, il mio pensiero, è in grado di descrivere le condizioni attraverso le quali fu prodotto l'esistente e, una volta pensate e descritte tutte le condizioni, io risalgo all'essere assolutamente necessario dicendo, ecco, questo è l'essere assolutamente necessario. Io dovrei negare ogni valore allo scetticismo del momento in cui la mia mente può pensare tutto l'esistente fino a giungere l'essere assolutamente necessario? Se seguo a regresso le condizioni, non giungo alle determinazioni dell'essere assolutamente necessario, ma giungo alla presenza di altre condizioni e la determinazione oggettiva della mia esistenza mi permette di supporre la limitazione oggettiva delle condizioni raggiunte nel regno dell'attuale esistere. Tagliare la testa nel risalire le condizioni attraverso l'affermazione assoluta dell'idealità pura dell'essere assolutamente necessario divene oggettivamente resa al tentativo di risalire a regresso le condizioni. E ancora, perché per le cose esistenti devo pensare a qualche cosa di necessario ma non sono in diritto di pensare a nessuna cosa in sé come necessaria? Chi determina tale diritto? Posso affermare una cosa come risultato di cause o non cause e posso ammettere tale causa o con cause come necessarie ai fini della cosa, ma non posso ammettere l'impossibilità di quella cosa in sé in quanto a sua volta diventa causa o con causa di altre cose. Essa stessa diventa necessità nelle catene delle cause ed effetti. Il fatto di voler togliere alle cause e agli effetti la propria determinazione consente lo spostamento della volontà della parte dell'essere assolutamente necessario. Tale spostamento è arbitrario e disonesto, perché il fatto stesso che io possa scegliere fra più cose nella soddisfazione dei miei bisogni, questa scelta anziché un'altra dà via ad una catena di cause ed effetti anziché un'altra catena. Ciò vale per l'azione di ogni oggetto in sé. Non solo posso, ma debbo pensare le cose come oggetti in sé in quanto la loro esistenza rispetto a me è l'atto ultimo di un'esperienza specifica catena causa-effetti rivolta al futuro ed è canta ad ammettere tutto questo quando ammonisce la ragione dal trovare scorciatoie, cioè di non fermarsi mai se non ad una spiegazione a priori completa. Salvo poi costruire il compromesso nel quale afferma, in sostanza, di investigare nella natura e nelle cause tenendo presente il primo necessario e solo per mettere ordine nella nostra conoscenza seguendo tale idea, ma non prendere nessuna determinazione come assolutamente necessaria. Ottimo escamotase, finalizzato al salvataggio di Caprecavoli. Qui interviene la critica dei filosofi dell'antichità, i quali soffermavano il loro giudizio sul necessario attribuendolo alla materia. La ragione, secondo Kant, non è legata all'esistenza della materia in quanto la ragione può sopprimerla attraverso il pensiero il quale rappresenta la necessità assoluta. Nella misura in cui Kant fosse in grado di dimostrare l'esistenza del pensiero in quanto ente o d'oggetto a sé stante e non come fenomeno o d'espressione di una particolare organizzazione della materia. Non solo, ma se non vado errato, gli antichi filosofi greci consideravano quattro elementi, l'acqua, l'aria, il fuoco e la terra, mentre i cinesi aggiungevano il legno e non mi ricordo se un altro elemento fosse il metallo. In altri termini non consideravano semplicemente la materia, ma all'interno di essa anche l'energia rappresentata dal fuoco. Il pensiero? Altro non è che un particolare rapporto fra materia ed energia in una particolare organizzazione all'interno della ragione. Kant potrebbe mantenere il proprio concetto se il pensiero, inteso come pensato, avesse una propria dimensione e una propria individualità, oggetto in sé, anziché fenomeno specifico dell'oggetto. Anche quando parlo di essere luminosi o di essere di energia vitale, non mi riferisco mai a pensiero puro, ma ad una particolare concentrazione di energia vitale organizzata in modo tale da mantenere compatta la propria coscienza di essere. In altre parole, potrei parlare degli esseri luminosi come esseri composti da stadi diversi della materia, come posso parlare di corpi fisici come composti da stadi diversi di energia. È un errore comune quello commesso da Kant, errore derivante dalla concezione del suo tempo, derivata dalla teoria agnostica del primo pensiero del demiurgo, fatta proprio dal cristianesimo attraverso la quale tende a spiazzare tutti i critici dello stesso. Il pensiero come ente in sé assolutamente necessario, dunque il primo pensiero come essere assolutamente necessario. Oggi noi sappiamo essere il pensiero organizzazione sinapsica delle cellule del cervello e sappiamo pure del rapporto dialettico esistente fra percezione della realtà e organizzazione sinapsica, fra organizzazione sinapsica e percezione della realtà. Dunque il pensiero è il fenomeno di un oggetto, non è oggetto in sé, tantomeno assolutamente necessario, in special modo per l'esistenza dell'essere umano. Accettando per valida l'eccezione comune secondo cui gli animali sono privi di pensiero, essendo questa una facoltà prettamente umana e considerando come gli animali abbiano la capacità di affrontare e risolvere tutti i problemi legati alla loro sopravvivenza, esistenza ed evoluzione, anche spesso al variare delle condizioni oggettive, possiamo considerare il pensiero come mero esercizio della mente, togliendogli ogni valore nobilitante, cogito largo sum, attribuiti negli ultimi paia di migliaia di anni. Insiste ancora Kant quando la natura, e gli dice, non può essere considerata di uso empirico, a meno che noi non vi poniamo a fondamento l'idea di un essere realissimo come causa suprema. L'idea di questo, e gli dice, nasce nel suo pensiero, continua poi, d'altra parte noi vediamo una catena di effetti e di cause, di fini e di mezzi, eccetera. Ebbene, questa concezione è prettamente di origine ebraica, nella quale l'essere assolutamente necessario con un colpo di bacchetta magica crea la natura e mette ordine nel mondo. La teoria dell'evoluzione già spiazzò questa concezione. Kant vede la libertà soltanto nelle azioni umane, tipico dell'adoratore di un dio messo al centro dell'universo dell'essere umano, o meglio, del comando dello stesso, come signore e padrone del pianeta. Gli oggetti non sono pure rappresentazione dei sensi, ma sono oggetti in sé, i quali, a seconda delle specificità, esercitano la libertà sotto forma di libero arbitrio, il quale è adattamento soggettivo alle variabili oggettive. Le cause o con cause producono effetti, questi a loro volta diventano cause o con cause di altri effetti, e non diventano cause o con cause di altri effetti ancora, in quanto la scelta del loro adattamento dischiude ed esclude altre scelte. La libertà, si può fermare, implica scelte coscienti, valutazioni, e queste sono prerogative dell'essere umano. Errore. E con questo errore io mi fermo un attimo solo. molto bene. Arrivati a questo punto, io fermo la lettura del Libro dell'Anticristo, anche perché è un po' pesantina questa parte, e la finisco la prossima volta, che finirò il Libro dell'Anticristo. a proposito di Kant, quando io vi ho parlato del potere di essere e del potere di avere, anche Kant aveva individuato il potere di essere e il potere di avere. Vi leggo dalla critica della ragione pratica di Kant, in cui dice, dice Fontenelle, davanti a un gran signore io mi inchino, ma non si inchina il mio spirito. Posso aggiungere, di fronte a un uomo di umili condizioni, plebeo, io in cui percepisco una rettitudine di carattere di misura tale, quale non sono consapevole di avere io stesso, si inchina il mio spirito, che io lo voglio o no, e che io porti pure alta la testa per non fargli dimenticare la mia superiorità sociale, e perché il suo esempio mi mette al cospetto di una legge che debella la mia presunzione. Se la confronto col mio comportamento, ed il cui vedo davanti a me, dimostrata dalla realtà in atto l'osservanza e quindi la fattibilità, ora posso essere persino consapevole di un grado uguale di rettitudine mia, il rispetto tuttavia rimane. Infatti, poiché nell'uomo ogni bene è sempre manchevole, la legge, resa visibile da un esempio, debella pur sempre il mio orgoglio, e l'uomo che vede davanti a me le cui pecche da cui può sempre essere afflitto, non mi sono note come le mie, e che quindi mi appare in una luce più pura, me ne offre un criterio. Praticamente cosa dice in questo corso Kant? Dice che le persone possono anche essere nobili, ma io, questo non vengo meno al mio stato sociale, cioè il mio stato sociale è una cosa, la nobiltà d'animo delle persone è un'altra. In realtà Kant ha osservato che esiste un potere di essere e un potere di avere, un potere di essere che è data dalla nobiltà dell'animo di cui egli parla, e un potere di avere che è data dalla condizione sociale che una persona occupa, che una persona preme. Naturalmente il potere di essere e il potere di avere non sono soltanto questi, il potere di essere e il potere di avere si esprimono con ben altre sfaccettature, però è importante riuscire a comprendere come il potere di essere e il potere di avere sono due modi attraverso i quali affrontare la realtà. Il potere di essere implica sempre lo sviluppo del soggetto, implica sempre lo sviluppo dell'individuo, implica sempre la negazione di qualsiasi superiorità all'individuo stesso, cioè l'individuo, nella misura in cui incontra qualcosa che gli è superiore, che è più abile, che è più bravo, che è più nobile, che è più bello, di quello di cui lui dispone, cessa di disporlo e cerca di appropriarsi di ciò che è migliore. Per cui esiste sempre una dilatazione e uno sviluppo dell'individuo sulle persone, è appropriazione delle persone, è costringere le persone a farle funzionare per se stesse. Il potere di avere deve necessariamente appropriarsi delle persone e deve costruire un sistema di pensiero, un sistema ideologico per cui le persone vengono appropriate e da qui nasce l'idea dell'essere assolutamente necessario che sia proprio di tutto, cioè praticamente tutte le persone vengono messe in ginocchio davanti a un'idea vuota, a un'idea inesistente, a un'idea puramente inventata per uno scopo preciso, cioè quello di distruggere dentro di loro il potere di essere e poter essere utilizzate per fini diversi da quelle che sono i loro bisogni. Questo è il senso di quello che abbiamo letto oggi. In pratica non esiste nessuna prova che esista all'essere assolutamente necessario o il Dio creatore, però tutta una serie di personaggi hanno lavorato per costruire prove. Ve ne potrei dare un elenco di queste prove nella filosofia che sono tantissime. Una di queste è l'anselmiana, penso il mondo dunque il mondo esiste, che è veramente un non-sense, oppure la prova in base alla contingenza del mondo che deve dipendere da un essere non contingente ma necessario. Cioè praticamente siccome il mondo esiste, il mondo decade, il mondo si trasforma, deve essere qualcosa sicuramente che non decade, oppure la prova sui diversi gradi di perfezione. Siccome io non sono perfetto, io faccio schifo, non so poi chi affermi che se stesso fa schifo, sicuramente esiste qualcosa di perfetto che mi ha costruito e non ci si pensa minimamente che invece proprio il fatto di voler migliorare, il fatto di voler crescere, il fatto di voler svilupparsi, porta a pensare che esista un miglioramento continuo, un miglioramento che porta a qualcosa. Oppure ancora, dal momento che l'universo è in armonia, c'è sicuramente una causa che mantiene l'armonia. Dunque c'è un Dio, cioè c'è questo Dio che tiene l'armonia nell'universo. Non si capisce bene perché prima faccia i pesci e poi il mare, o prima fai i pesci e dopo il ghiaccio, o fai il ghiaccio che galleggia in modo da non aggiungere i pesci. Non ci si rende conto che l'armonia dell'universo è data dalla relazione fra le cose, dove non c'è armonia, dove c'è disarmonia, c'è un collasso, c'è uno scontro, c'è uno scoppio. La non armonia porta allo sviluppo della contraddizione. La soluzione della contraddizione porta all'armonia. Se due galassie non sono in equilibrio nei rapporti di forza, si scontrano ed esplodono. Si scontrano e esplodono finché raggiungono un equilibrio e ricominciano la trasformazione. Per cui la contraddizione porta sempre a risolvere ogni scontro. Questo vale anche nel crogiolo dello stregone. Oppure addirittura la prova di Dio, la prova di esistenza di Dio. La morale umana implica Dio. Siccome io ho una morale, io non vado per strada a scortellare la gente, che strano, il leone ha gli artigli, ma neanche il leone artiglia continuamente quello che non gli serve. Però siccome io non vado per strada, non sgozzo le persone, potrei sgozzare le persone, però non sgozzo le persone, allora sicuramente c'è Dio. Cioè, veramente cose assurde. Andiamo ancora a l'ansermiano, vabbè, penso Dio, dunque Dio esiste. Cavoli, io penso che esiste Dio, dunque siccome io lo penso, Dio esiste. Cioè, io penso Babbo Natale ed esiste sicuramente Babbo Natale. Questo è un fatto santo, questo. Oppure Cartesio, l'idea di perfezione che non può venire da un essere imperfetto. Necessariamente deve venire da Dio. Agostino, bellissimo. L'idea di necessario fondamento attraverso la constatazione di idee e verità eterne e necessarie. Allora, siccome esistono idee e verità eterne e necessarie, sicuramente c'è un filo conduttore che è Dio. Cioè, non è che gli uomini hanno due gambe, due braccia, una testa, devono mangiare tutti i giorni, per cui devono costruire comportamenti per mangiare tutti i giorni, devono muoversi in quel modo, devono riprodursi in quel modo. No, questo non esiste. C'entra questo l'uomo. Che cos'è l'uomo? L'uomo è una bestia, non so, per Sant'Agostino. Infatti, quello che scrivo è il proprioso. Sicuramente, dice, c'è Dio. Cioè, questa è la prova che esiste Dio. Oppure, da Aristotele, si muove dunque qualcuno, cioè Dio, lo fa muovere. Cazzo! Incredibile! Cioè, siccome io non riesco a capire cosa una cosa lo fa muovere, sicuramente quella cosa è stata fatta muovere da Dio. Cioè, è veramente folle. Cioè, ci rendiamo conto che Aristotele ha addestrato Alessandro Magno, insomma, questo qua che è diventato famoso solo per ammazzare gente. E questo è, siccome, chi è che ha fatto muovere Alessandro Magno a massacrare messa gente, a andare in giro a conquistarsi il meso mondo, che poi non sapeva neanche cosa farsi, inoltre tutto? Eh, sicuramente Dio a questo punto non c'è altro. Ha pure anche il principio, il principio di causa efficiente. Io non capisco qual è la causa che porta delle azioni. Non è che io non sono in grado di capirlo. Non è che io forse un giorno riuscirò a capirlo. No! Siccome la causa io non la capisco, questa causa è sicuramente incausata dunque prodotto di Dio. Ricordatevi che quello che vi sto dicendo adesso sono tutte le prove che sono state portate per l'esistenza di Dio, per l'esistenza di quest'essere assolutamente necessario. Siamo veramente a livello di demenza. Con queste prove si è dovuto dimostrare che esiste Dio. Cioè non esiste Dio. Nel modo più assoluto non esiste prove di esistenza di Dio perché Dio non esiste. Tant'è che l'unica prova ammessa, l'unica prova dell'esistenza di Dio che è stata ammessa è questa. Dio esiste perché lo dice la Bibbia. Attenzione, la Bibbia dice che esiste Dio, dunque Dio esiste. Siccome la Bibbia è un libro ispirato da Dio, sicuramente Dio esiste. Non so se vi rendete conto. Galileo e Elena avrebbero qualcosa da dire in proposito. Questa è l'unica prova che non si può controbattere. Perché? Perché si può logicamente dimostrare come la Bibbia sia un insieme di contraddizioni, un insieme di imbecillità. Però davanti al rogo, davanti alla galera, davanti a chi ammazza, davanti a chi mette in ginocchio i bambini, davanti a chi stupra, chi non si può difendere, non c'è niente. Non esiste relazione, non esiste nessun dialogo. E questi agiscono in quel modo perché lo dice la Bibbia. Due cose fermano la stregoneria e il paganesimo. La violenza fisica e la fede. La fede che blocca il cervello e la violenza fisica che impedisce alle persone di esprimere se stessi. Queste sono le due cose che ordino e impongono l'esistenza di credere al Dio. Chi ascolta questa trasmissione sa benissimo che stiamo parlando da più di cento ore di trasmissione, da un anno e tre mesi per dimostrare il paganesimo e la stregoneria. Bene, anche oggi un'altra telefonata nella prima trasmissione avete sentito, dice tu non mi parli del paganesimo. Cioè la cicità prodotta dalla fede impedisce impedisce di ascoltare quello che si dice. Cioè se io gli dicessi a questa persona io credo a Giove, mi metto i ginocchi davanti a Giove, questa persona riuscirebbe a capire. Siccome io non faccio questo, quella persona non capisce che cos'è il paganesimo. Cioè non riesce a capire che esiste la possibilità di sviluppare il Dio dentro di lei. Cioè questa persona non riesce a capire di avere una possibilità di costruire un attimo di eternità. Questo è micidiaio. Cioè la fede blocca i cervelli, ma li blocca veramente. Cioè se qualcuno di voi ha fede, provi a chiedersi cosa perde se c'è qualcosa che gli sfugge. Naturalmente io so benissimo che questa persona non verrà mai fuori dalla fede. Continuerà sempre a pensare Dio come essere assolutamente necessario. Ma in tutto questo, tutto quello che sto leggendo, cosa mi interessa a me? Mi interessa perché? Perché se io posso dimostrare che il Dio della Bibbia è solo il macellaio di Sodoma e Gomorra, cioè non è niente, è nessuno. Se posso dimostrare che i Vangeli ufficiali sono stati fatti da un povero pazzo, non ho nessuna consistenza in sé, quello che mi è più difficile combattere, quello che più effettivamente resta è il Dio dei filosofi. Cioè sono i cosiddetti filosofi cristiani o filosofi quelli che cercano il Dio di mezzo, le spiegazioni, gli artifici. Ecco, là è molto più difficile affrontarli. Perché è difficile? Perché l'unica cosa che dovrebbero ammettere, dovrebbero ammettere, è le prove della ragione, cioè le prove del discorso. In realtà, loro non ammettono le prove del discorso, ammettono soltanto il proprio condizionamento personale e piegano il discorso al proprio condizionamento. Tant'è che Kant a un certo punto dice, beh, non esiste nessuna prova che Dio esiste, ma siccome a me è stato insegnato che Dio esiste, io voglio credere a Dio. Cioè, esiste un autopiegamento, esiste una costrizione soggettiva per cui una persona si mette comunque in ginocchio ad ogni costo. E questo è micidiale, questo è incredibile. Per liberarsi da tutto questo, i passaggi sono lenti, sono faticosi, ma non sono impossibili. Però, per liberarsi da tutto questo, è necessario avere ancora un barlume, ancora la forza, per costringere se stessi a fare un percorso. Costringere se stessi a fare un percorso non è semplice, perché l'idea di Dio, l'idea dell'assoggettamento, l'idea del condizionamento educazionale, non è un'idea che arrivi a sprazzi, che sia messa là, che è tanto per dire. No, viene ficcata dentro, nei primissimi mesi di vita, nei primi sei anni di vita, in maniera con una violenza che è incredibile. Cioè, se voi pensate a un bambino di pochi giorni, la persona, l'estraneo, che gli va a fare bigli, 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 che bello, bigli, bigli. Questo è un atteggiamento di una violenza mostruosa. Se la madre che non tira un ceffone a questa persona veramente fa schifo. Perché? Perché è violenza rispetto al bambino. Cioè, un bambino di pochi giorni è un individuo che sta afferrando tutto quello che esiste, sta affagocitando tutto quello che esiste con una voracità immane. Bene, andare a questa persona, parlargli di Dio, metterla in ginocchio davanti a Dio, parlargli di quanto è buono Dio, cioè, è di una violenza che è pari, pari, se non superiore, a quella esercitata dai nazisti nei campi di sterminio. Perché va a distruggere la possibilità del bambino di costruirsi il pensiero. Appena nato il bambino ha il reticolato sinapsico che sono tutti i collegamenti cerebrali del cervello accesi. Sono tutti lampeggianti. Man mano che passano i giorni, che passano i mesi, questi collegamenti si interrompono e il bambino va a fissare la propria attenzione, il proprio essere, soltanto su un punto preciso, soltanto su delle cose precise. Quelle cose precise è quanto i genitori, quanto il sistema sociale in cui viviamo, che gli dà. Per cui l'intelligenza, la stupidità del bambino, vengono determinate nei primissimi mesi e nei primissimi anni di vita. Cioè esiste tutto quanto un ciclo, una catena, una curva che potremmo costruire, che va dai primissimi giorni di vita fino ai primissimi anni di vita. Prima ancora che il bambino parli, può essere messo in ginocchio. Questo, si può avere già distrutto il proprio divenire. Questo naturalmente distrugge anche il nostro sistema sociale. Distrugge il futuro di quello che c'è ora. Se noi oggi costruiamo degli individui forti, avremo un forte futuro. Se costruiamo degli individui deboli, abbiamo un debole futuro. Io adesso, scusate un attimo ancora, io adesso dovrei chiudere la trasmissione perché dovrei aver finito, però qui ragazzi io non li vedo. E allora, chiudendo un attimino il discorso della e della la menzogna cristiana sulla realtà di Dio, che è la quinta parte del Libro dell'Anticristo, che terminerò la prossima volta per chi avrà pazienza di ascoltarlo, cioè non è che cambia molto, i tempi e i ritmi sono quelli. Vi mostrerò un attimino la conferenza che terremo a Treviso, la quale attraverserà una serie di argomenti ed è la creazione nel paganesimo politeista, cioè il nostro concetto di creazione, vi daremo il nostro concetto della vita e la morte, vi daremo il nostro concetto di divino come negazione del Dio cristiano, vi daremo il nostro concetto dell'essere assolutamente necessario, vi parleremo dell'orrore della concezione religiosa cristiano-cattolica, vi parleremo del circostante come coscienza, vi parleremo dei riti in stregoneria a mezzo per fondare la libertà e vi parleremo del paganesimo politeista come religione. Vi esporremo nel giro di un'ora circa il nostro pensiero a grandi linee però sufficiente per costruirsi un'idea. Chiaramente se qualcuno viene a pensare che noi vi diciamo mettiti in ginocchio questo non esiste, cioè questa è una cosa che non esiste. Se qualcuno viene pensando di sentirsi dire invece di adorare Tizio adorare a Caio questa è una cosa che non esiste. Se qualcuno invece viene per cercare spunti per sapere cosa effettivamente pensiamo e quali sono le prospettive questa persona avrà questi dati e queste cose. Per cui le cose che si cercano saranno sempre le cose che si trovano. Bene, io sono abbastanza felice perché sono arrivati e io chiudo qui la trasmissione e vi ricordo che io sono Claudio Simeoni via delle Vignole 4 Marghera che lavora insieme all'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti Casella Postale 53 Marostica Vicenza vi ricordo che l'Istituto ha preparato un numero speciale del bollettino vi ricordo che l'Istituto ha preparato un numero speciale del bollettino col crogiolo dello stragone in pratica con i 15-16 punti che vi ho elencato l'attenzione l'intento il palpare il mondo la contemplazione lo scetticismo la sospensione del giudizio eccetera di cui sapete che vanno a fondersi insieme formando il crogiolo dello stragone questi elementi questi elementi insieme che vi abbiamo illustrato nel corso di quest'estate prima di quest'estate veramente venne a formare il crogiolo dello stragone questo elaborato dall'Istituto diventa un bollettino un bollettino interno che viene dato a richiesta c'è chi lo richiede il fatto che chiedono all'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti ripeto l'indirizzo Istituto Mediterraneo Studi Politeisti casella postale 53 Vicenza e viene fuori questo numero che verrà presentato anche in conferenza in conferenza sarà un banchetto con tutte le cose nostre sopra per cui uno può anche passare di là scusate e dare un'occhiata sulle cose che noi usiamo che stiamo lavorando per costruire il pensiero pagano la filosofia pagana la teologia pagana questo noi dalla prossima trasmissione invece nelle trasmissioni normali parleremo di due cose fondamentali prima di tutto faremo un elenco di alcuni principi che abbiamo tirato fuori dai paganesimi di cui abbiamo parlato e in secondo luogo inseriremo da quei principi tireremo fuori gli altri due aspetti i due canti del mondo che ci mancano e insieme andremo a inserire il crogiolo d'ostragone un po' alla volta nei quattro canti del mondo cioè la stregoneria come arte di vivere come arte di affrontare la vita come arte di affrontare il mondo mentre facciamo questo io sto lavorando ancora per preparare altri due lavori che porterò avanti più avanti che uno è il crogiolo del male come si distrugge il divenire delle persone e i metodi usati per distruggere il divenire delle persone pur non trattando gli aspetti più orrifici della cosa di cui mi rifiuto come mi sono rifiutato di trattare gli effetti più orrifici del cristianesimo del cattolicesimo pur non trattando questo tratterò di tutti i sistemi normali per mettere in ginocchio gli esseri umani e come questi vengono messi in ginocchio e come si forma la fede cioè se i cristiani stanno pensando stanno ascoltando nel crogiolo del male cioè come si si costruisce dentro il bambino dentro la persona la fede in un dio salvatore un altro lavoro che sto portando avanti un po' alla volta è invece un è un'analisi di alcune cose esistenti di una stregoneria sconfitta che è la stregoneria agnostica e prendendo lo spunto da questo andremo ad analizzare finita questo tipo di analisi i paganesimi che sono quelli dei i paganesimi misterici gli eleusini i riti di Demetra gli riti di Adone non tanto i riti in sé dionisiaci non tanto il loro rito in sé che mi interessa abbastanza poco ma andremo ad analizzare quelli che sono i principi e cosa questi hanno portato e cosa portavano di cosa erano portatori e come si manifestava questo pensiero che andavano portando questi sono i lavori che sono che sono in questo momento in corso ce ne sono un altro paio ma sono abbastanza limitati e collaterali questi lavori che un po' alla volta presenterò trasmissione dopo trasmissione che chi vorrà ascoltare ascolterà chi vuole non so discutere ne può discutere sempre vi ricordo che io normalmente a sera sono quasi sempre disponibile insomma se qualcuno vuole telefonare non c'è nessun problema insomma bene io qua adesso chiudo la trasmissione perché mi hanno fatto cenno di andare avanti un altro po' però io reggo fino a un certo punto dal momento che sono un apprendista stregone non sono mandrache vi ringrazio tutti per l'ascolto e a risentirsi a giovedì prossimo vi ricordo ancora che il giorno 7 il giorno 7 febbraio 1998 palazzo Oniego a Treviso in corso del popolo 29 alle ore 18 e 30 verrà svolta la conferenza di magia stragonaria paganesimo come liberazione dall'assoggettamento cristiano adesso il titolo mi sta sfuggendo in questo momento che non ce l'ho sotto mano l'ingresso è libero tutti possono partecipare dopo un'esposizione verrà fatto il dibattito nel dibattito non ci sono preclusioni a parte quelle di legge che non si può prendere a pugni si può chiaramente usare qualsiasi tipo di linguaggio qualsiasi che si desidera non c'è problema tanto anche qui in radio gli insulti sono molto gratuiti abbiamo visto per cui vi aspetto a Treviso manderò in ogni trasmissione farò pubblicità della conferenza secondo me sarà una grossa conferenza riusciremo forse a farsi capire un po' un po' di più di come abbiamo fatto finora però sarà l'esposizione del paganesimo ricordatevi che dopo 1500 anni sono le prime volte sono i primi anni che il paganesimo riesce grazie alla radio grazie a far sentire la sua voce fino a prima non era possibile e noi abbiamo sempre presente la lingua di Giordano Bruno serrata in una morsa di ferro o la lingua tagliata di Giulio Cesare Vanini queste cose ci appartengono come ci appartengono tutte le donne bruciate tutti i cercatori di libertà tutti i ribelli tutti quelli che sono gli stragoni tutti i popoli che sono stati massacrati tutti gli animisti in Africa tutti i popoli aborigini gli indiani d'America cioè sono tutte cose che ci appartengono perché il respiro della libertà appartiene agli esseri umani vi ringrazio per avermi ascoltato arrivederci a giovedì prossimo alle ore 15 con la trasmissione Magia Stragonaria Paganesimo e ancora buona settimana e buona serata a tutti